Siamo qui con Michal Kopecki da Cech Repubblica. Michal, puoi raccontare la tua iniziativa? Ciao Simon, il progetto è chiamato Dreamcatcher e è un progetto di uno dei banali locali qui in Cech Repubblica e è per i raggiungi di 13-26. Credo che sarebbe una buona idea chiedere la banca per partecipare in questo progetto e chiedere di un'argento per la nostra squadra per la Tromzo per l'anno prossimo anno per le europee in Norvegia. Iniziamo il progetto che vi mostrò in un minuto e necessitiamo di aiutare il supporto dal pubblico e dopo aver ricevuto questo sarà la seconda round e spero di ottenere il dinero che necessitiamo. Ok Michal, vediamo come funziona e come possiamo aiutare? Sì, vediamo. Sì, vediamo. Sì, qui sul sito eBL abbiamo già un link al progetto che ho creato sul sito di Dreamcatcher sul sito. Qui puoi vedere... infatti è in Cech. Sorry per questo. È una foto del team descrizione del progetto in Cech. e qui sul sito non funziona in tutti i browser ma qui puoi trovare una descrizione in inglese. Quindi puoi avere un'idea di cosa succede. Come vedete ci sono delle foto sui giorni sui giorni sui giorni. Inoltre, ciò che ho bisogno di fare per aiutare il nostro progetto dopo aver guardato la descrizione ho bisogno di cliccare su questo grande plus. Inoltre. ciò che ti ha fatto sui Facebook dove sarebbe abbastanza abbastanza per noi scrivere una notte per i vostri amici come hai qui e magari suporti i Cech i ragazzi e dopo aver fatto e confermati ciò si potrebbe mostrare questo sui Facebook e questo dovrebbe aggiungere uno per la vostra votazione sul nostro contatto. Necessitiamo 1600 in total a questo momento abbiamo 300 quindi necessitiamo molti aiutti e grazie. Ok Michal ora introducevi la tua squadra. Sì, certo. Ho sei sei giocati 16 e 19 ho una bellissima e 5 ragazzi che più che che sono che che sono più 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 e più 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 hai l'arga che è da 16 l'arga cki molte le flore sono i più vecchi, ma facendo molto bene, usiamo per giocare contro le oponenti perché è proprio quello che fanno, per farlo. E questo è il mio team, è il mio. E quanto riguarda te? Beh, ho avuto giocare molto in passato, ma anche per l'opente team, ma ora ho lavorato e ho prenduto cuore dei bambini, è quello che mi piace più. Non ho bisogno, non ho bisogno, ma non ho bisogno, ma non ho bisogno. Grazie mille, Michal. Grazie, Simon.